Ha visto la mamma accasciarsi a terra, colta da un malore che l'ha uccisa. Poi ha vegliato sul suo cadavere per due giorni, senza trovare la forza di avvisare qualcuno, di chiedere aiuto, neanche ai suoi vicini di casa. E' la storia drammatica vissuta da una bambina di soli sei anni, residente in un vecchio alloggio popolare di Corso Mazzini, nel rione Libertà di Bari. Sua madre, una 36enne senza marito, si è sentita male mentre era in casa con la piccola, testimone suo malgrado della morte della donna. E' stato il nono della bimba che vive a Pescara il primo ad insospettirsi, dopo che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con la figlia e la nipote. All'ennesima telefonata a vuoto, si è messo in auto ed ha raggiunto Bari, trovandosi di fronte alla tragica scoperta. I primi accertamenti della polizia fanno ipotizzare un decesso per cause naturali. Sul corpo della donna non sono stati rinvenuti segni evidenti di traumi, né sono stati trovati in casa medicinali o sostanze, che possono far pensare a piste alternative. I suoi vicini di casa l'hanno descritta come una ragazza serena, piena di voglia di vivere, la cui unica preoccupazione era quella di accudire la figlioletta affinché non le mancasse niente. La morte della donna risalirebbe circa due giorni fa, ma su questo punto le forze dell'ordine non si sono ancora sbilanciate. Maggiori certezze si avranno solo a seguito dell'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale nei prossimi giorni.